ragazzi ragazzi buona giornata da corridore nato mikigro buon martedì finalmente arrivato l'evento tanto atteso dragon ball super ragazzi ed ecco subito che andiamo a vedere innanzitutto che l'evento terminerà fra 13 giorni eccolo qua con tutti i carichi che viene a completare per aumentare il proprio livello di potenza e raccogliere le sfere del drago quindi per ottenere tutte le sette sfere del drago e poter sbloccare ovviamente il deltaplano di sharon guardate molto molto bello ecco i vari incarichi mi raccomando mi raccomando giocate giocate e andiamo subito a vedere con naruto ovviamente l'evento di dragon ball super ragazzi eccolo qua e cominciamo con i due band ragazzi con quattro skin due molto belle che sono Goku e Vegeta divise ognuna per pacchetto quindi il pacchetto di Goku e Beerus ragazzi guardate Goku nelle varie versioni Goku Super Saiyan Super Saiyan blu e ultra istinto l'altra skin eccola qua virus gli strumenti di raccolta il dorso decorativo i due dorsi decorativi la schermata di caricamento e le motte ragazzi il caricamento del Goku ovviamente questi sei oggetti 2700 buvaki invece che 3005 e l'altro bundle il 2003 guardate qua il grandissimo Vegeta e Bulma nei quattro stili vegeta vegeta super saian super saian blu e super saian blu evoluto ragazzi e ovviamente Bulma dei due stili Bulma e camice da laboratorio ragazzi con le moto caricamento di Vegeta ovviamente il costo è 2003 invece che 3000 WBAC il band all'attrezzatura di Dragon Ball con i due deltaplani bellissimo a nuovola d'oro navicella spaziale il dorso decorativo che a me non fa impazzire carapace dell'eremita della tartaruga il piccone basta con l'eremita e l'altro emote fusione A ragazzi 1800 invece che 2006 altrimenti tutti questi oggetti sia skin che emote che picconiche e dorsi decorativi venduti separatamente guardatele 2000 per Goku virus 1500 vegeta 1800 e Bulma villalue io vi consiglio soprattutto Goku ragazzi e vegeta ed ecco l'emote e i dorsi decorativi del deltaplani vi consiglio nuvola d'oro da 800 e ci sta anche fusione ragazzi per il resto secondo me si poteva fare meglio soprattutto il dorso decorativo e piccone non sono bellissimi il band del pesce secco che è rimasto ragazzi una carrellata veloce perché più che altro era concentrato ovviamente su Dragon Ball ragazzi rimango un esperto ricognitore cuore nero le varie emote che ve le faccio vedere in maniera veloce gli oggetti della CCFN ecco lame arcobaleno da 500 il dorso decorativo ultra contatore e la bellissima musica ascoltate adesso facciamoli vedere chi siamo la cosa più bella secondo me i vari pacchetti fra cui spicca prepotente questo mamma mia pazzesca costa skin in carichi a giri zaffir 1199 per sciuppare gratuitamente e sostenere il canale il mio codice creatore e mi chico tutto attaccato e mi ky se non c'era altrimenti dal 0 99 centesimi in poi super sticker e super chat ricarrellata veloce ovviamente sulle cose più belle l'evento di Dragon Ball super quindi le skin ragazzi le quattro skin e e soprattutto Goku e Vegeta e presto presto contest con una skin una skin non vi dico quale delle quattro non vi dico quale delle quattro mi raccomando ragazzi lasciate un like al video condividete il video e iscrivetevi al mio canale mickey crow ragazzi una buona giornata ragazzi vi voglio un mondo di bene ciao gg ehi guys ciao